Crescita, libertà, indipendenza, il palco della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia ospita gli appunti per un programma conservatore del professor Giulio Tremonti. Intanto grazie, io mi ero preparato per un dialogo con Giovan Battista Fazzolari, ho capito che devo fare un monologo, quindi ho cambiato l'impianto e comunque un intervento in due versioni, una diciamo long e una smart, short, smart e renzi. La long è sui social e la short è qui. Meglio che mi ferma con l'inglese, long, short, social, non abuso dell'inglese e lo lascio al governo dei migliori. Mi sono preparato e faccio consiglio tre letture. Shakespeare, Lenin, Orwell. Shakespeare, Amleto, time is out of joint. E cioè dire il tempo si è rotto. La smetto con l'inglese. Lenin, uno che di casino se ne intendeva, scrive, ci sono settimane che contano come decenni e decenni che contano come settimane. È il tempo presente. Orwell, il libro distopico 1984. Credo che sia il libro che sta sui comodini del Cremlino. Nel libro si immagina un mondo diviso in tre blocchi. Oceania, Eurasia, Est Asia. Oceania è il mondo anglosassone. Eurasia è il mondo di Putin. Ma visto dal lato sbagliato della storia. La storia è l'Europa dall'Atlantico agli Urali e dal mondo di De Gaulle, di Wojtyla. Il mondo di Putin è dall'Asia, dalla Russia, verso l'Europa. Ed è questo lo schema mentale che, credo, ispira quello che sta facendo oggi. Il punto, e credo quello più critico, più drammatico, nell'analisi del caso della guerra, io credo che alle categorie della logica, della diplomazia, della storia, debbano essere aggiunte categorie della psichiatria. Per essere chiari, uno che di russi se ne intendeva, Dostoevsky, scrive I demoni. Quando tu parli con un russo, non sai mai fino a che punto finisce Gengis Khan e da che punto comincia Anna Karenina. È realmente un mondo... Io credo che questa categoria debba essere considerata non solo schemi diplomatici, i precedenti della storia, le convenienze, me lo auguro, ma temo che la categoria del non razionale debba essere vista, considerata e messa in conto. Puoi dire sei pessimista? Mettiamola giù così. Chamberlain era ottimista, Churchill era pessimista e si è visto come è andata a finire. Credo che una cifra critica, drammatica, debba essere e credo i popoli lo sentono e lo sanno. Non è la fine del mondo, ma è certamente fuori dall'Ucraina e dalla guerra. È comunque la fine di un mondo. È la fine del mondo globale, come è stato strutturato negli ultimi tre decenni. Con la globalizzazione, l'ideologia del mercato, il mercatismo, l'ultima ideologia del Novecento, il mercato fabbrica dell'uomo futuro, l'uomo che non ha un passato, ha solo il futuro. Questo nel discorso fondamentale del Presidente Obama. Un'architettura del mondo che vede il mercato sopra e gli Stati sotto. Sopra l'economia, sotto la politica. Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni. Io credo che mai nella storia è un cambio così forte è stato in un tempo così breve. Nell'89 cade il muro di Berlino. Nel 94 a Marrakesh, in Marocco, è fermato il trattato War Trade. E non è un trattato commerciale, è un trattato ideologico, politico. Il mondo è unificato dal mercato, dalla matrice positiva e democratica del mercato. Nel 2001 l'Asia, formalmente entra, la Cina entra nel VTO, e nel 2008 inizia la prima grande crisi globale. Non è stata una crisi finanziaria, è stata la prima crisi della globalizzazione. l'effetto della scelta folle di fare la fabbrica in Asia e i consumi in Occidente, con in mezzo gli oceani da inquinare con milioni di container. Non era difficile per vedere che quel meccanismo avrebbe retto, ma a un certo punto si sarebbe rotto. E così è stato. La classe lavoratrice degli Stati Uniti viene impoverita dalla globalizzazione. Perdi i posti di lavoro, i salari e gli stipendi sono livellati su quelli dell'Asia. Ma il costo della vita resta occidentale. Interviene Provvida, Wall Street, che inventa i subprime. Sono un artificio per il quale se anche hai meno reddito da lavoro, comunque hai più disponibilità, più soldi, e ti puoi comprare il SUV, la casa più grande. Il meccanismo del subprime dura alcuni anni, poi crolla. E a questo punto è la crisi del 2008, del 2009. è la crisi della globalizzazione. Sono gli effetti della scelta, ripeto, folle, di spostare di colpo la fabbrica in Asia e i consumi in Occidente. la scelta della globalizzazione poteva essere fatta e doveva essere fatta in tempi più lunghi e più saggi. Invece tutto è stato concentrato e sincopato in pochissimo tempo. Io, memoria degli illuminati, quando si pianifica il World Trade, ricordo la parola più diffusa era una parola latina, più applicata, momentum, ora o mai più. Il filosofo di Corti era Fukuyama, diceva, è la fine della storia, la storia sta tornando con il carico degli interessi arretrati e accompagnata dalla geografia. E tuttavia è stato questo il momento, e finisco la riflessione, questo è il momento in cui si pone per l'Occidente, credo per il mondo, una scelta fondamentale. Introdurre regole nell'economia globale o lasciare l'economia globale in mano alla finanza. La proposta delle regole è la proposta fatta dal governo italiano. Si chiamava Global Legal Standard della bozza di un trattato che conteneva regole sociali, economiche, anche ambientali. Nel 2009 nel trattato c'era scritto regole ambientali e igieniche. Vi dice nulla a proposito del Covid? Fu votata anche dall'Ocse, ma fu battuta dal cosiddetto Financial Stability Board. La logica era non servono regole per l'economia, bastano alcuni criteri per la finanza, naturalmente scritti dai finanziari. Vince il Financial Stability Board. Ometto la citazione dell'italiano che presedeva quel meccanismo. da allora non c'è stata Financial Stability perché non ha funzionato e allora sono passati alla creazione di denaro dal nulla. Helicopter money, questo è inglese loro, whatever it takes, quantitative easing. in questo momento dato uno della ricchezza reale ci sono tre di finanza. Ai miei tempi si conteggiava in billion, che già era un numero paperonico, adesso si conteggia in trillion. È evidente che il meccanismo contiene in sé elementi di potenziale catastrofe. e lo vediamo comunque anche dalle parti della BCE. La BCE ha creato una realtà folle di per otto anni interessi a tasso zero. Tasso zero. Adesso si ritrova con l'inflazione al 6-7% deve alzare i tassi, deve intervenire. Alzando i tassi deve intervenire bloccando l'acquisto dei titoli. L'acquisto dei titoli fu inventato qualche anno dopo la caduta del governo di centrodestra. Io ricordo bene la lettera Trichet-Draghi che confondeva l'austerità con la moralità scambiava la politica col tasso di interesse. Non voglio che sia ma sarebbe un curioso se chi di spread perisce di spread colpisce. La Bibbia è un magazzino di miti e uno dei miti è la torre di Babele l'uomo sfida la divinità erige una torre la divinità reagisce e gli toglie la lingua unica. Quello che sta accadendo è la realtà il mondo le crisi hanno tolto il pensiero unico hanno rotto il software della globalizzazione. E comunque nella Bibbia le piaghe finora cinque ma se volete possono essere anche più lunghe l'inquinamento l'inquinamento è stato causato dalla globalizzazione molto più inquinante questa dell'antica industria tradizionale. Lo svuotamento della democrazia che è stata sversata nella Repubblica Internazionale del Denaro e questo è il regno dei crematisti i credenti nella metafisica potenza del denaro la politica e iconografia Francoforte il cambio delle consegne è tra i due presidenti della BCE in platea ci sono i politici i capi di stato e di governo ad applaudire ma voi avreste visto De Gaulle Mitterrand Adenauer De Gasperi in platea ad applaudire i banchieri la globalizzazione e la rete le due case sono connesse l'idea che al vecchio cogito ergo sum possa sostituirsi il digito ergo sum sviluppato nel metaverso oggi in un mondo nuovo artificiale spettrale alternativo rispetto a quello naturale e di politico c'è un dato fondamentale il trionfo dei giganti della rete sugli stati e quindi sui popoli il crollo demografico a partire dalla conversione del sesso umano dalla responsabilità al piacere e di riflesso la mutazione della famiglia tradizionale in una horizontal family l'apparizione nell'individualismo terminale di tanti elio gabali con l'iPad su questo punto della vita è straordinario il passaggio fatto da Giorgia Melonieri e poi i conflitti e le guerre la cosa curiosa è che dato tutto questo le elite globali invece di come dire di ritirarsi si ripresentano e si candidano alla guida del mondo sui loro comunicati G7 e G20 trovate la formula build back better the world faremo un mondo migliore considerato che il peggiore l'hanno già fatto è abbastanza ci dicono che è una questione di sovranità loro hanno centrato l'obiettivo la sovranità della stupidità esiste l'eresia populista l'ortodossia globalista molti cominciano a credere che è meglio l'eresia populista dell'ortodossia globalista lavori come questi sono molto importanti per l'assemina di idee di progetti e di proposte Italia Metternich usava dire l'Italia solo una espressione geografica e devo dire che se dopo Metternich l'ANDA è cambiata oggi in un qualche modo è tornato il presupposto di quelle valutazioni dopo il Britannia per risanare l'Italia hanno distrutto una quota enorme dell'industria pubblica e adesso vediamo quanto è importante e strategica l'industria pubblica non c'è stato un Britannia in Germania o in Francia eppure la struttura dell'industria tedesca e francese non era di mercato era molto vicina a quella pubblica e controllata e poi l'altro passaggio è stato la lettera BC e Banca d'Italia quella è stata la vera chiamata dello straniero Mastic ripeto degenerato nella confusione tra l'austerità e la moralità tra i tassi di interesse e la bassa politica dopo tutto questo comincio a pensare che siamo a rischio per essere calpesti e derisi flashback quando nel seicento l'Italia chiamata dello straniero diventa calpesta e derisa gli italiani per reazione alla tragedia che vedono e che vivono inventano la commedia dell'arte e nascono le maschere nella politica italiana è riapparsa la commedia delle maschere l'Italia è un paese fondatore dell'Europa lo è stato lo è e lo sarà c'è un piccolo lapso sfreddiano nel quale è in corso il presidente del consiglio che nel chiedere la fiducia al senato poi alla camera ha detto l'Italia non è un paese fondatore ha detto è un socio fondatore questo è un lapso sfreddiano si è dimenticato di dire che dal suo punto di vista è una socia di miglioranza ma in ogni caso noi siamo un paese fondatore che cosa e finisco che cosa possiamo fare immaginare per evitare la condizione di minorità ci vogliono idee ci vogliono valori e idee l'Italia ne ha avuti in Europa e conti in Europa se hai una base politica in Italia in Europa l'Italia ha contato molto fino al 2011 se posso ricordare quanto si dice l'Europa dal lato giusto della storia con gli Eurobond gli Eurobond sono una proposta italiana del 2003 ed erano ed erano per finanziare le infrastrutture europee e finanziare l'industria militare europea nel 2003 e ricordo la reazione tedesca fu no la reazione inglese fu più intelligente e dissero questo è nation building no grazie e infatti era nation building era l'idea di una costruzione basata sulla funzione militare una idea di costruzione politica dell'Europa e poi tante altre cose abbiamo detto proposto fatto l'idea di smetterla di fare troppe regole che spiazzano le nostre imprese e rendono odiosa l'Europa in America hanno unificato le ferrovie non gli asciugacappelli la follia di togliere di colpo i dazzi nessun continente al mondo ha tolto di colpo i dazzi alcuni volevano mettere le sanzioni a Germania e Francia fuori dal trattato erano i due presidenti Trichet e Prodi e fu l'Italia a dimostrare che bastava la procedura eccessiva non aveva senso dare le sanzioni non c'era la base alla Germania tra l'altro è per inciso basta leggere un libro di storia per capire che dare le sanzioni alla Germania non è una cosa che porta fortuna abbiamo proposto la detax per l'Africa quando nessuno considerava l'Africa come un luogo cruciale nella storia del mondo perfino l'idea della banconota da un euro era europea perché diceva se il dollaro ha la banconota anche l'euro se volete l'euro globale deve essere come il dollaro adesso per fortuna c'è il bitcoin da un dollaro detto tutto questo servono idee come quelle che sono state presentate e discusse qua e sarà nei prossimi mesi e questo sarà fondamentale per l'Italia io penso due cose essenziali primo noi abbiamo la manifattura abbiamo l'agricoltura e abbiamo il risparmio questi sono i beni più preziosi la manifattura va difesa in tutti i modi perché è la base strutturale della nostra società abbiamo la seconda manifattura d'Europa e a ridosso di quella tedesca pone enormi problemi ma dobbiamo difenderla se dipendesse da me detasserei tutti gli investimenti fatti dall'industria per ristrutturarsi e poi sempre per l'economia ma anche per la società smetterla di fare troppe regole l'altro giorno il governo si è vantato di aver fatto mille decreti attuativi in un anno vuol dire un decreto ogni tre giorni domeniche incluse questo non è diritto questo è rovescio e poi c'è il risparmio noi abbiamo un enorme debito pubblico ma anche un enorme risparmio e questo è il punto fondamentale se parli con un tedesco ti dice bravi avete un grande risparmio ma avete anche un grande debito e poi uniscono le mani nel senso del lavaggio io credo che sia un punto fondamentale per l'Italia difendere il nostro risparmio ed è possibile tante altre cose che verranno fuori saranno fuori mi permetto di finire c'è un punto sul quale vorrei fare una proposta specifica nel 2005 abbiamo proposto il 5 per 1000 e ha funzionato in modo straordinario questo è il momento per passare dal nostro 5 a un nuovo 10 per 1000 qui fuori ho fatto un collegamento in una trasmissione che prevede la citazione di di brani musicali qualche mese fa il brano che avevo scelto ho detto l'inno di mameli ieri hanno suonato hanno suonato il coro del Nabucco la prossima volta è la leggenda del piave grazie 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 al professor Giulio De Monti indipendenza